intervistato da quarta repubblica il leader della lega attacca se hanno i numeri domani lavoriamo se non ce li hanno vanno a casa palamara sia commissione d'inchiesta mancano ormai poche ore al termine del mandato esplorativo concesso al presidente della camera roberto fico dal capo dello stato sergio mattarella eppure sul fronte governo giallorosso non arrivano ancora segnali di ricongiumento malgrado il fortissimo desiderio di restare inchiodati alla poltrona ed il terrore sacro delle urne al momento la tensione resta altissima e non si trova un'intesa soprattutto fra grillini e renziani ospite a quarta repubblica trasmissione in onda su rete 4 il leader della lega matteo salvini ribadisce la propria posizione l'unica cura per risolvere questa crisi e tornare al voto la via maestra impegnare due mesi per il voto per non rompere le scatole agli italiani per i prossimi anni andranno avanti altri giorni con le trattative perché non si sono messi d'accordo su chi fa il ministro non si sono messi ancora d'accordo sulle poltrone e questo sarebbe una cosa vergognosa una perdita di tempo noi abbiamo provato a dialogare in tutti i modi la vita va avanti c'è un'epidemia in corso se andiamo alle elezioni poi abbiamo un parlamento che lavora per cinque anni ha ribadito con sicurezza l'ex vice premier se domani vanno al quirinale e vengono concessi loro altri 5 6 giorni non avrei modo di commentare in maniera educata fornire altro tempo ai partiti che compongono l'attuale sconclusionata e litigiosa maggioranza sarebbe davvero il colmo il paese con tutti i problemi che affliggono i cittadini non può restare ancora per molto in questa situazione di stallo eppure in senato e alla camera ci sono parlamentari vinavili incollati alla poltrona noi per coerenza abbiamo lasciato sette ministeri a chiosato salvini e ancora sono seduti intorno a un tavolo a trattare gli stessi che hanno bloccato il paese per un mese le emergenze ci sono ma non si sta facendo attività parlamentare perché c'è fico che incontra la boschi c'è renzi che litiga con conte